L'accordo è stato trovato intorno a luna di notte, quando l'Assemblea Comunale del Partito Democratico di Arezzo ha approvato il regolamento per le primarie in vista delle amministrative. Un compromesso che fotografa i nuovi rapporti di forza a Piazza Sant'Agostino con i renziani che si portano a casa una data prima di Natale, così come chiedevano, e le minoranze che di fatto potranno presentare i propri candidati senza trovarsi di fronte a ostacoli procedurali insormontabili. In poche parole le primarie si svolgeranno domenica 21 dicembre e i candidati che non vantano un appoggio da parte di almeno il 35% dell'Assemblea Comunale del PD dovranno raccogliere soltanto 300 firme e non 1.200, in un arco di tempo compreso tra il 20 e il 28 novembre, cioè con un paio di giorni in più rispetto alle bozze iniziali. Tutti contenti? Tutt'altro. La votazione è stata preceduta da una vivace discussione che alla fine ha visto approvare il documento con 54 voti favorevoli, 3 contrari, 19 astenuti, tra cui la senatrice Donella Mattesini e 6 persone che al momento della votazione sono uscite dall'aula. Confermato anche il fatto che le primarie saranno di coalizione. Coalizione ai cui confini saranno definiti entro la fine della prossima settimana e che comunque dovrebbe comprendere un'area che va dalla sinistra di governo dell'assessore Romizzi e della sua lista Arezzo in Comune fino ai popolari per Arezzo di Luigi Scatizzi. Difficile la partecipazione di SEL, tentata dalla realizzazione di una lista con comitati e rifondazione comunista, mentre appare più probabile quella di scelta civica, anche se punti cruciali riguarderanno il programma e le persone da presentare.